Il maestro pizzaiolo Francesco De Ceglie, nostra compagnia, Francesco che da anni coccola i suoi clienti sfornando tante prelibatezze. Un pubblico vastissimo, fatto di gente comune ma anche di tanti VIP, di tanti personaggi famosi che non perdono l'occasione per bussare alla porta di Francesco per gustare le sue specialità. Francesco De Ceglie è ovviamente il padrone di casa del Monfortino, mai nome fu più azzeccato perché qui tra queste mura, come vedete dalle immagini, lui ha costruito la sua splendida carriera che nel corso degli anni lo ha portato a scalare classifiche e posizioni importanti in tutta la regione Campania, affermandosi sempre di più. Dicevamo, le immagini vi fanno capire che c'è un work in progress, vi fanno capire che il Monfortino sta mettendo l'abito nuovo, si sta rinnovando, sta così dando un tocco di estetica, di modernità, sta allargando anche i propri obiettivi. 29 marzo, lunedì, 29 marzo, via Giulia 7, a Centurano, il nuovo Monfortino. Attenzione, il nuovo per modo di dire, vedrete tante cose innovative, ma resta la qualità, resta la bontà dei prodotti, quella non si cambia. Sicuramente una scommessa importante quella di Francesco, in questo periodo difficile, il 29 marzo il Monfortino riapre, ovviamente rispettando tutti i protocolli e le restrizioni in atto, ma senza che ci nascondiamo. Sappiamo benissimo che ci troviamo nel bel mezzo di una crisi sociale ed economica senza precedenti. Forse nemmeno durante i conflitti bellici l'economia è stata ai minimi termini come in questo momento. E allora caro Francesco, innanzitutto ancora ben ritrovato e grazie per trascorrere un poco di tempo in questa vigilia di apertura insieme con Giornale News. Ma caro Francesco, la prima domanda è troppo spontanea. Una scommessa incredibile in un momento difficilissimo. Ma come ti è venuta? Ci racconti un po' questo percorso? Grazie al Giornale News per questa intervista, questo piacere di stare insieme a voi. Noi quest'idea di stravolgere un po' il Monfortino ci è venuta perché avendo fatto un 2020 molto molto critico, ma sia noi che altri nostri colleghi un po' in giro per l'Italia, per il mondo, abbiamo fatto questa scelta di non abbatterci ma di ricostruire qualcosa di nuovo che veramente desideravamo da tempo e abbiamo fatto questa scommessa che è un po' da pazzi, però ci crediamo perché in questi cinque anni il nostro pubblico ha creduto in noi e noi oggi vogliamo regalare questa emozione a tutti i nostri clienti. Questa è la nostra scommessa. Francesco, la tua storia è il nuovo Monfortino, ripetiamo sempre 29 marzo a Centurano e poi ci saranno tante novità anche nei prossimi mesi. 29 marzo c'è una prima apertura, poi la speranza in estate è di stare un poco meglio e il Monfortino vi offrirà ancora delle cose incredibili a livello sempre di look e di location. Ma dicevamo, una scommessa imprenditoriale incredibile, e Francesco ma quando si fanno queste scommesse, parliamoci chiaro, ci sono anche degli obiettivi, dei traguardi, dei sogni che uno vuole raggiungere. I tuoi quali sono? Vogliamo iniziare a dire un po' quali sono le novità che il pubblico troverà qui? Il nuovo Monfortino sarà una bella terrazza all'aperto, abbiamo fatto una bella sala degustazione di circa 8-10 posti, proprio per dare ancora la qualità, perché la qualità è sinonimo di Monfortino e non la perderemo mai. Quindi non ci siamo allargati per fare più numeri, ma per dare la qualità per far sì che ogni sala dedicata a voi sarà di massima tranquillità, un'esperienza, un viaggio tra sapori, tradizione e innovazione. E dicevamo, gli obiettivi che comunque ti sei prefisso? Il nostro obiettivo innanzitutto è continuare con il nostro staff da anni, che sono circa 26 dipendenti e questa per noi è una grande soddisfazione. Il nostro obiettivo è di non fermarci e di regalare ancora tante tante emozioni e dare una carica anche a voi per dire non ci dobbiamo abbattere mai e dobbiamo finire presto questo momento critico. Il nostro obiettivo è andare avanti e fare tante cose belle, ma senza il vostro aiuto certamente non potremmo arrivarci mai. Diciamo, questo è la chiave di tutto. Francesco, adesso parliamo della protagonista vera di questa chiacchierata. Senso offesa, innanzitutto è importante dire che ogni volta che dico Francesco e faccio una domanda, dico Francesco, ma in realtà Francesco è tutto il Monfortino, il suo staff, i suoi collaboratori, ragazzi eccezionali che da anni lo seguono e che mettono in questa piccola azienda anche tutto il loro affetto, oltre che il lavoro. Francesco, ma senza offesa, la protagonista di questa chiacchierata è la pizza, la tua arte, la pizza che negli ultimi anni ha avuto un'evoluzione incredibile, il piatto più povero, più semplice, il classico disco di acqua e farina che si è evoluto in una maniera esponenziale, ci sono tante etichette, pizza rivoluzionaria, pizza gourmet, ma tu che sei il protagonista, da dietro al tuo bancone, come l'hai vissuta questa crescita, questa evoluzione? La pizza è rimasta sempre la stessa, perché la pizza è pizza, però dobbiamo anche adeguarci all'esigenza del cliente, quindi bisogna studiare, bisogna sapere processi sia di levitazioni, quindi noi in questo caso abbiamo mantenuto la tradizione, ma nello stesso tempo abbiamo messo un pizzico di innovazione per far sì per accontentare anche la fascia di clienti più esigenti. Quindi secondo me dal piatto più povero, oggi è diventato il piatto più importante e noi dobbiamo continuare a fare studi e a cercare tante tante materie prime e dare sempre il massimo della qualità, perché il cliente oggi è esigente, però la tradizione è sempre la tradizione. Francesco, sin dal primo giorno del Monfortino, proprio il tuo biglietto da vista, quello che ti ha fatto conoscere, sono questa varietà infinita di farine che tu usi per le tue creazioni e per i tuoi clienti. Monfortino trovi tutte le farine possibili e immaginabili, ci spieghi questo aspetto? Allora, quando abbiamo aperto il Monfortino, noi facevamo la classica pizza napoletana, la tradizione, mi ricordo che noi non facevamo tante pizze, facevamo appena abbiamo aperto dalle 30 alle 40 pizze al giorno, però a volte entrava qualche cliente che ci chiedeva ma avete la canapa? Avete? E noi rispondevamo no. Allora ci siamo domandati e è arrivato il momento di studiare e capire cosa possiamo offrire. Oggi abbiamo Fabio che sta con me, sono 17 anni, oggi è il mio grande socio di questa pizzeria e abbiamo studiato insieme, oggi abbiamo la farina di canapa, abbiamo l'impasto alla canapa, l'impasto integrale, l'impasto multicereale, l'impasto alla curcuma e abbiamo trovato anche il dolce e l'impasto a cacao, che lo facciamo noi. Quindi abbiamo dato una vasta scelta, ma studiando, perché solo studiando possiamo accontentare la nostra clientela, quindi abbiamo capito l'esigenza del cliente qual era e abbiamo sfruttato quel momento e oggi ci ritroviamo a fare tanti impasti e devo dire la verità, sono impasti che funzionano e abbiamo un bel consumo di questi impasti. Diciamo l'impasto più venduto, l'integrale, la canapa e il grano arso. Francesco, prima di terminare questa chiaccerata, io ti chiedo per un attimo, almeno per l'ultima domanda, di spogliarti un po' dai tuoi panni di maestro pizzaiolo, di successo che, ripetiamo, negli anni ha salito tanti gradini. Perché non possiamo dimenticare, sarebbe un errore farlo, la grande crisi che ci attanaglia, i momenti drammatici, i ristori che non ne arrivano, le attività che stanno chiudendo, i problemi che affliggono tanti colleghi imprenditori, quasi come una ghigliottina sulla testa. Ecco, Francesco De Cegli, ed è imprenditore, un ragazzo che ha voluto fare questa scommessa, che non si è mai arreso, che non si è mai abbattuto. Su questa situazione, qual è il tuo punto di vista? Il mio punto di vista, da quando abbiamo subito il primo lockdown, diciamo, è stata dura, come è stata dura per noi, è stata dura per tutti. Il primo nostro pensiero abbiamo pensato i nostri dipendenti, perché i nostri dipendenti hanno dato cinque anni del loro saper fare e noi siamo arrivati a questo punto oggi grazie ai nostri dipendenti. Quindi il primo obiettivo è stato che abbiamo pensato loro, fino a che abbiamo pensato a fare questo passo gigantesco, quindi secondo me la chiave è noi possiamo metterci la faccia, ma sono loro che oggi ci portano a questi livelli. Ai colleghi imprenditori cosa diciamo? Allora io mi lancio un messaggio perché c'è anche chi lo fa, secondo me oggi il dipendente deve essere più valorizzato, perché senza di loro a questi livelli non possiamo arrivare mai. Noi mettiamo la faccia, ma loro mettono tutto il loro affetto e tutti il loro la lavoro per farci arrivare fin qui, quindi senza di loro noi non diciamo nulla. 29 marzo il nuovo Monfortino vi aspetta, vi aspetta ma sempre al solito posto, via Giulia 7 Centurano, 29 marzo si aprono le porte, ovviamente nel rispetto ricordiamo di tutti i protocolli e le restrizioni, ma ovviamente poi il Monfortino praticamente vi prenderà per mano e vi accompagnerà fino all'estate con tante novità, terrazzo all'aperto, sale accoglienti e poi c'è una novità ragazzi, una novità incredibile, una sala VIP, una sala speciale dove Francesco De Ceglie preparerà per voi delle cene e degli assaggi davvero esclusivi e strepitosi, una sala davvero da scoprire e da vivere almeno una volta. In bocca al lupo a Francesco, aspetta ma adesso mica dobbiamo finire così, abbiamo detto la pizza, la farina, Francesco, ma innanzitutto in menù più o meno quante pizze troveremo? Allora, il menù composto è sempre lo stesso quello che c'era prima perché non abbiamo cambiato nulla né prezzi né abbiamo aggiunto altre 5-6 chicche nuove e poi faremo sempre la classica pizza della settimana e in tutto sono dalle 20 alle 25 pizze senza cambiando prezzi non abbiamo cambiato nulla abbiamo solo cambiato il look ma per una questione nostra per raggiungere dei nostri obiettivi e farvi stare molto più comodi ma la pizza top di Francesco De Cegli e il Monfortino 2021 nuova apertura qual è? Allora, io oltre diciamo la margheria e la marinara che non si cambia per nessuna diciamo per nessuna al mondo per nessuna pizza il nostro cavallo di battaglia che è il Monfortino che sarebbe? sarebbe un ripieno a base di focaccia chiuso a crudo con una crosta di parmigiano 36 mesi e viene messo crudo rucola bufala top e scaglie di parmigiano quindi è una pizza che fa un contrasto tra un caldo e freddo di cui ci ha portato anche tanta tanta fortuna perché abbiamo vinto vari premi prestigiosi quindi è una pizza che non la cambierò mai che poi il premio più bello è sempre l'affetto della gente tu hai vinto premi in classifica abbiamo detto in concorsi specializzati ma la gente come ti vuole bene poi i VIP che arrivano e che presto saranno anche i tuoi ospiti appena possibile subito e spero che quando tutto finirà la potete provare anche voi e sarà un vero piacere in bocca al lupo Francesco grazie Crepi un caro saluto a tutti i lettori di Giornale News Grazie a tutti i nostri spettatori